video ripresa in 4k 60 fps con oppo find x3 pro vediamo poi i vari livelli di zoom 2x 5x stiamo parlando di ottico procediamo sotto qui una splendida griglia che andremo ad utilizzare domenica sperando non piova vediamo un po la messa a fuoco due fotocamere da ben 50 megapixel per tutti i gusti tutte le esigenze procediamo entriamo cambio di luce procediamo andiamo verso l'entrata a vedere così sembra davvero molto 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 fluido e soddisfacente e voilà ciao